Diamo il benvenuto negli studi di Ascanews a Piero Badaloni, giornalista e scrittore, volto storico della Rai e ora si appresta a cominciare una nuova avventura, una nuova sfida su TV2000, il nuovo talk show Avanti il prossimo al Via il 25 gennaio. Ecco, cosa dobbiamo attenderci da questo nuovo programma? Diciamo che proprio la formula nuova per cui si può già cominciare a parlare di post-talk è proprio quella che mi ha intrigato e che mi ha convinto a dire sì a Paolo Ruffini, un collega, un direttore che stimo e per cui lo dice già il titolo qual è questo post-talk, perché Avanti il prossimo vuol dire che nella puntata, nell'approfondimento che dedichiamo, in cui ogni puntata sarà sistemata, ognuno entra e dice la sua e poi va a sedersi nel salotto, dopodiché ne entra un altro. In genere il confronto sarà tra il portatore di disagio, il portatore di problema e chi nella politica, nell'istituzione deve dare una risposta a questo problema, per cui la politica entra in questo talk, ma non per parlarsi addosso, entra per dare delle risposte quando non le dà e sollecitare le soluzioni a questi problemi quando le soluzioni mancano. Si affrontano temi sociali, ma anche di attualità, di politica, si parte il 25 gennaio con quali tematiche? Allora, diciamo, sono tre gli spazi del talk, del post-talk. Il primo è dedicato alla stretta attualità ed è in questo caso ovviamente la sentenza della Corte Costituzionale, si arriva comunque. E poi l'approfondimento dedicato a un problema sociale di volta in volta diverso. La prima puntata è dedicata al tema della sicurezza sociale, le paure degli italiani, dalla criminalità al terrorismo, ma anche le nuove paure. Non anticipiamo troppo di quello che si dirà. E poi il terzo spazio invece è dedicato ad un personaggio che ha qualcosa da dire, che ha vissuto un'esperienza o che si è reso protagonista di un fatto importante. In questo caso, nella prima puntata, incontreremo la giornalista dell'Espresso che ha avuto la possibilità di leggere i diari di Giulio Reggeni, scritti poco prima che venisse rapito e torturato. Giornalista di lungo corso, appunto con tante esperienze alle spalle, ha deciso di vivere questa nuova sfida. Perché? In una recente intervista ha anche dichiarato di aver rinunciato ad altri progetti. Ma diciamo che normalmente io dedico il mio tempo, ormai sono cinque anni che ho lasciato la RAI, dedicavo fino adesso il mio tempo a realizzare documentari, a scrivere libri, e per cui il progetto a cui stavo lavorando era un nuovo libro, un nuovo documentario. Li ho messi per il momento nel cassetto e per cinque mesi lavoreremo con una squadra di grandi, tutti giovani, ma già grandi professionisti, lavoreremo a venti puntate, perché tante saranno le puntate di Avanti e il prossimo, fino alla fine di maggio. E poi chi vivrà vedrà. E ha deciso, ha scelto anche TV 2000 per il legame con la stima per Ruffini, che sta dando una svolta importante a questa TV dei Vescovi, una TV che guarda meno dentro il proprio orto, ma che guarda un po' all'attualità, al sociale, cerca di estendersi. Ma come è la chiesa di Papa Francesco, no? Per cui diciamo che non è difficile ritrovarsi in sintonia con questo grande editore, su cui siamo d'accordo, su tante cose, e non a caso lui ha espresso proprio in questi giorni la sua posizione sul tema di cui parleremo, di cui ci occuperemo, e che è proprio di non chiudersi al riccio nell'alzare il ponte elevatoio nel proprio orticello, ma di guardare oltre, di ragionare in termini di dialogo e non di competizione, perché quella è la strada del futuro e certamente l'altra non porta da nessuna parte. Ringraziamo Piero Badaloni per questa intervista e soprattutto in bocca al lupo per il nuovo programma Avanti il prossimo, ogni mercoledì dal 25 gennaio su TV 2000 in prima serata. Alle 21.05. Grazie.